benvenuti nella seconda parte dei sorteggi dei gironi oggi decideremo cosa decideremo dillo tu decideremo chi giocherà la prima partita del girone a questa domenica 19 come sapete se mi seguite su instagram ovviamente ho messo una storia dove vi dicevo che questa domenica inizierà il girone a ancora mi seguite andate a seguire tutti adesso perché lì uscirà novità tutto riguardo torneo finanziere ma quindi in descrizione che mi raccomando inizia il girone a l'estrazione giustamente vediamo un po cosa esce attenzione quanto grazie la scelta della 100 un drink ma dove c'è allora questa è la prima partita prima partita vediamo un po chi si dovrà affrontare domenica allora dark angels squadra mia naturalmente come ho già detto nello scorso video adesso vediamo contro chi andrà vediamo il teccio lo sorteggiare io un po cosa esce la prima partita come aveva sorteggiato lo sai tramiglino contro il dark angel e la perdente di questa partita andrà ad affrontare la squadra rimanente che sarebbe il jack denis e poi da lì la squadra di jack denis la terza che ha giocato solo una partita mentre per esempio i flamandini che dovessero perdere la partita contro di me giocerebbero già due partite e io dovrei giocare adesso dobbiamo vedere il girone B vediamo chi non si era a giocare allora allora rischiamo vediamo un po allora prendiamo questo dai qual è lor star ok la mia squadra adesso vedi tu la scelta come un barman vediamo a 420 fc si affronterà di me perfetto e sarà una sfida molto difficile perché comunque entrambe le squadre sono abbastanza forti quindi chi lo sa lo scopriremo più avanti nei video come stas contro 420 fc l'ultima squadra rimanente ovviamente zava fc quindi una squadra è però chiediamo come funziona il giorno ea anche nel giorno eb certamente quindi prima partita lo star contro 420 fc seconda partita la squadra che vincerà il primo game della partita che andrà contro e poi si vedrà quindi andrà avanti nel torneo poi chiediamo i gironi quando incominciano il 19 come abbiamo già detto anche lui ha messo su instagram il 19 questa settimana incomincia il torneo in assoluto con la gara inaugurale che abbiamo già detto e invece il girone b inizierà il 26 la domenica successiva quindi 26 tutte le partite si faranno sempre di domenica quindi il girone b cioè il mio che verrà domenica prossima semifinale verrà fatta la domenica successiva che è 2 aprile 2 aprile quindi il mio finale 2 aprile è sempre allo stesso orario ha sempre allo stesso posto quindi siete invitati tutti quanti se volete venire al campo comunque link in descrizione oppure sullo schermo faccio uscire la via per il nome del campo buona fortuna per il torneo grazie grazie mi raccomando iscrizione alla campanella scudimi su instagram ci vediamo domenica ci vediamo domenica a 19 tu mi stai guardando devi venire